Buongiorno, sono un operatore del settore nautico di Mergerlina, ben sì il Presidente del Consorzio Porto Turistico. Questa è Mergerlina, guardate signori miei, da lunedì mattina abbiamo segnalato per togliere la spazzatura, non ci sono i contenitori, nessuno si fa vedere e sentire. Ho chiamato anche il consigliere del quartiere, ma purtroppo non ha potuto fare niente, siamo da tre giorni che la spazzatura ci mangia, è una vergogna, il posto più bello del mondo, Mergerlina, che le nostre istituzioni facessero qualcosa, grazie. Buongiorno, sono Michele Pugliese, il Presidente del Porto Turistico di Mergerlina, vorrei mandare questo messaggio ai nostri governanti del quartiere o del comune di Napoli. Tutta la spazzatura che vedete a terra è di tutti i locali che ci circondano a Mergerlina. I nostri clienti dalle barche le portiamo dentro allo chalet che ci sono gli oppositi contenitori. Per cortesia, vedete di mettere i contenitori a Mergerlina, ma soprattutto curate la zona, è una vergogna. Il sabato e la domenica quello che si vede su questa strada non avete dentro e noi operatori puliamo la strada con l'acqua e con le scuole. Non viene nessuno. Grazie.